Il CEO di Coinbase ha dichiarato che un po' di tempo fa, qualche giorno fa, la SEC era tornata all'attacco contro l'exchange intimandoli di sospendere quello che era il trading di tutte le criptovalute ad esclusione di bitcoin e indicandogli appunto questa cosa per il fatto che l'exchange stesso non era stato registrato come broker dalla SEC insomma eccetera. Quindi questa cosa qui imponeva che Coinbase stesso avesse dovuto eliminare il trading delle criptovalute eccetto bitcoin perché per la SEC quelle cripto continuano ad essere additate come security. Questa indicazione poi del CEO è stata anche molto bella perché loro hanno indicato che non hanno seguito questa indicazione e probabilmente anche salvando un po' il mercato perché se fosse stata un'indicazione di quel tipo ragazzi immagino avremmo avuto veramente dei veri crash diciamo nel settore delle cripto. Soprattutto per quanto riguarda ETH piuttosto che bitcoin e anche le altre cripto che la SEC aveva indicato come security quindi le varie Solana, Matic, SEND eccetera. Però questo non è avvenuto quindi un po' questo messaggio di Armstrong è stato indicativo del fatto che loro si sono un po' opposti. Poi la causa con la vittoria di Ripple o dell'ultimo giudice quello che ha indicato che Ripple in realtà non deve essere considerata come una security ha dato un po' di spazio a questa considerazione. Comunque Coinbase è stato sempre molto attento dal indicare che quella richiesta della SEC non fossero vere. Insomma ancora si combatte con la questione SEC security non security e sembra un po' perdere forza l'offensiva della SEC che è un po' negli ultimi periodi è diventata meno invasiva in quanto già scricchionano le loro considerazioni. Però non si sa mai dietro l'angolo facessero qualcosa di storto il mercato potrebbe risentirne. Bene ciao a tutti bentornati in questo video aggiornamento delle quotazioni dei mercati che comunque sono addormentati totalmente dalla pausa estiva. Pausa estiva che però avviene quasi sempre a luglio per gli istituzionali ma non ad agosto. Quindi attenzione a pensare che questa pasta possa continuare anche sotto il calore e l'ombrelloni di agosto perché ragazzi solitamente gli istituzionali e l'ambito finanziario rientrano ad agosto. E ad agosto il mese è spesso anche contornato da un po' di volatilità un po' anche fastidiosetta. Ci sono state anche delle grandi crisi che sono appunto proprio scoppiate ad agosto stesso. Speriamo che in questo caso faccia un po' eccezione. In ogni caso i mercati sono veramente addormentati ragazzi. Vi faccio vedere il time frame 90 minuti che utilizzo per i cicli più piccoli di bitcoin ed è veramente una super barra di congestione incredibile. Vedete da un sacco di tempo. Questo secondo me in questo particolare momento scusate il gioco di parole e ho perso il calcolatore del range. Li spostano ogni tanto eccoli qui eh l'hanno rimessi qui. Va bene allora in pratica da questa zona qui quindi da giugno a la giornata di oggi circa 38-40 giorni il mercato è in barra di congestione. Una barra di congestione che è stata prima estremamente stretta poi si è allargata in questo punto ed è rientrato di nuovo in barra di congestione. Ora la questione è molto chiara cioè il problema è se qui è iniziato un nuovo ciclo mensilomeno adesso lo andiamo a vedere in questo video vi faccio vedere un po' quel mio punto di vista. Per il resto diciamo c'è stato poco anche da fare in questa fase perché ragazzi anche le altre cripto vediamo per esempio Ethereum non sono state per niente volatili. È vero che la scorsa settimana è stata negativa perché negli scorsi giorni c'è stata questa fase di bassista e poi una fase di barra di congestione. Anche su Ethereum esiste un livello molto importante, un livello chiave che secondo me potrebbe innescare quella che è una spirale di volatilità. La fase attuale è e resta non particolarmente bella per i mercati ma non drammatica che sono cose un po' particolari perché siamo entrati in una sfera anche ciclica quindi di fase temporale abbastanza delicata e questa sfera potrebbe in effetti essere indicativa anche di un respiro più pronunciato dei mercati delle cripto come vi dicevo fino a settembre-ottobre. Diciamo che anche su Bitcoin questa cosa si evince però andiamo per gradi come sempre iniziando da quelli che sono i calendari economici per la settimana per vedere se c'è qualcosa di importante che può essere in creare un po' di volatilità. Abbiamo visto il tasso di infrazione pubblicato questa mattina alle ore 11 dell'Europa che invece è assolutamente in linea con quello che era previsto però è anche poco poco ridotto cioè la riduzione del tasso di infrazione europea è estremamente lenta, molto più lenta di quello che forse si aspettavano loro stessi quindi il tasso di interesse in Europa continuerà a salire ancora nei prossimi mesi. Per quanto riguarda poi altre indicazioni che sono secondo me importanti da andare a verificare di queste non ce ne sono diciamo particolarmente rilevanti non perché questi dati siano non rilevanti per esempio l'ISM particolarmente importante, le richieste di disoccupazione particolarmente importanti anche il tasso di disoccupazione di venerdì degli Stati Uniti importanti però le stime ragazzi di questi livelli sono in linea con i dati precedenti questo cosa significa? Significa in pratica che non ci sarà alcuna forma di volatilità a meno di shock estremamente imprevisti da parte del mercato quindi è molto improbabile che questo avvenga, in sostanza sarà una settimana con la fuoriuscita di dati macro che hanno sempre meno impatto un po' ne abbiamo parlato, un po' vi ho spiegato questa cosa e questo concetto e secondo me è proprio così nei prossimi mesi i dati macro avranno sempre meno impatto perché i dati macro nei mercati hanno impatto per determinati periodi di tempo molto brevi tra le altre cose e non sono estremamente significativi poi da andare a guardare tutto il tempo perché soltanto laddove servono quei dati a indicarci determinati livelli per esempio come era quello dell'inflazione allora quei dati lì hanno un senso da andare a guardare altrimenti poi ragazzi i mercati scontano tutti i prezzi scontano tutto quindi a meno di shock imponenti e importanti quei dati non creeranno che una mini volatilità riassorbita poi in pochissimi minuti quindi è quello un po' che state vedendo sia sui mercati cripto che i mercati classici diciamo che l'economia va a gonfie vele nei Stati Uniti i mercati questo non se lo aspettavano però lo hanno già scontato tanto è vero che se andiamo a guardare i livelli di Nasdaq e di SP siamo praticamente ai massimi storici di Nasdaq 100 questo perché semplicemente i mercati hanno dovuto riassorbire quello che era un atteggiamento iniziale molto negativo cioè una iperrecessione che non è mai avvenuta questa iperrecessione perché anche i dati la scorsa settimana che sono stati pubblicati del PIL erano assolutamente migliori delle attese quindi ragazzi questa recessione non c'è poi avverrà magari nei prossimi mesi i mercati questo lo valuteranno ma non sono così convinti tanto è vero che nonostante i mercati si dice anticipino di sei mesi circa quelle che sono le oscillazioni scusate quelli che sono i dati di natura economica in questo caso quest'anticipo non c'è qui siamo ai massimi storici quindi qualora dovesse arrivare una crisi imminente noi da qui inizieremo a vedere almeno per tutti i mesi estivi fino a ottobre novembre i mercati iniziare a prendere una componente negativa il problema è che i dati macro non indicano una crisi imminente non indicano nulla indicano un'economia stabile in buona salute con tatti di interesse alti quindi questo ancora meglio perché è ancora più buona salute il sistema economico perché ragazzi immaginate che la Fed in questo momento può giocarsi diverse armi quindi anche qualora noi andassimo poi in recessione effettivamente la Fed ha molte 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 munizioni al suo arco molte frecce al suo arco perché potrebbe abbassare i tassi e i tassi sono alti adesso quindi può veramente avere tanti tagli dei tassi insomma questi mercati lo stanno scontando è un periodo che è sicuramente molto meglio rispetto a quello che erano le attese da inizio dell'anno quindi vestevo come ancora una volta neanche le analisi di natura fondamentale relative ai sistemi economici e quelle che erano le possibilità di quello che si poteva andare a verificare sono state smettite poi dall'economia reale che si autoadatta molto più velocemente di quelle che sono queste analisi e alla fine come sempre per fare poi speculazione e guadagnare bisogna seguire la price action perché la price action non mente mai e in effetti già in queste fasi iniziali poi aveva indicato il trend rialzista precisamente alla fine da qui da questa zona di rottura del 12.000-13.000 punti di Nasdaq oppure da questa zona un po' più bassa intorno ai 12.000 quindi tutta questa zona qua ha già inversito il trend quindi semplicemente non ha mai ricambiato l'inversione di trend quindi è restato un po' lo standard di Nasdaq 100 passiamo a Bitcoin andiamo a analizzare invece le questioni cicliche sia di Bitcoin che poi guardiamo anche il cambio Bitcoin-Ethereum perché c'è una componente ciclica da andare a verificare allora iniziamo con una questione di Bitcoin per quanto riguarda questa fase io ho impostato una struttura ciclica di due mensili uniti due mensili che hanno una forma di natura ternaria ora questa è un po' difficile da andare a fare questa centratura perché quando i mercati vedete fanno barre di congestione in pratica senza nessun movimento Bitcoin sembra quasi una moneta fiat in questo caso per alcuni potrebbe essere positivo allora in questo caso non abbiamo punti di appoggio l'unico minimo in chiusura che esiste ed è più importante cioè perché i prezzi poi successivamente di Bitcoin sono stati al di sopra di questo livello di minimo è la chiusura del 24 di luglio oppure se ragioniamo in shadow è la shadow del 24 di luglio in ogni caso questo livello può essere indicativo da 17 giorni della chiusura di un movimento movimento che sicuramente è un movimento di natura settimanale ma non sappiamo se sia anche un movimento di natura mensile questo perché in pratica dobbiamo ancora attendere un po' allora qui siamo a 6-7 giorni ipoteticamente molto probabile che qui sia iniziato almeno un ciclo bisettimanale cioè una struttura di almeno 15-20 giorni che potrebbe effettivamente andare a chiudere i due mensili insieme vedete in forma ternaria quindi facendo diciamo 60 giorni in questo modo cioè l'idea che qui sia iniziato il terzo movimento di questa fase resta valida attenzione però perché se siamo noi in questa ipotesi cioè da qui è iniziato il terzo movimento come vi ho detto nel precedente video della scorsa settimana questa fase è ribassista solo e solo se qui è iniziato invece un ciclo di natura mensile lunga quindi cioè una struttura da 40 giorni nuova che porta quindi a chiudere non un B mensile ma un intero ciclo trimestrale poi successivamente con un altro ciclo da 40 giorni circa quindi una cosa del genere ragazzi allora vediamo se riesco ok eccolo qui una cosa del genere solo in questo contesto questa struttura può avere anche la possibilità di rimbalzare e non ha nessun tipo di vincolo a quel punto potremmo anche andare a fare nuovi massimi con tranquillità questa affermazione ragazzi io ve l'avevo già indicata la scorsa settimana ed è il motivo per il quale anche io stesso l'altro giorno ho preso una piccola posizione rialzista sui mercati di trading quindi non di posizione lunga di trading perché quella posizione mi serviva a proteggermi da queste ipotesi come ve l'avevo anche accennato cioè nel momento in cui questo rialzo è un rialzo più corposo io devo entrare dovevo essere già entrato perché se il mercato va a superare di nuovo le mie due medie mobili 21 e 11 ragazzi che utilizziamo sempre e va a breccarle allora poi lo slancio è confermato quindi questa fase potrebbe in effetti innescare anche un nuovo massimo quindi a quel punto è troppo tardi siamo al palo il mercato ci aveva messo poi sotto scacco quindi ho preferito diciamo fare un mini ingresso almeno psicologicamente sono un po' sul mercato non è una cosa molto importante quindi qui molto position sizing quindi molta importanza è come dividete come create la strategia di divisione della posizione del vostro portafoglio e in quel caso ha molta influenza e quindi in questa posizione ragazzi io sono stato molto leggero tra le altre cose per fare questo tipo di operatività ragazzi come sempre io uso l'exchange Bitget exchange che tra le altre cose insomma mi permette anche di andare ad operare per quanto riguarda il future quindi io in questo caso per questo tipo di operatività che sono comunque un po' più brevi che non hanno molta lunghezza preferisco prediligo utilizzare i future con una leva anche elevata che però non uso perché voi sapete come uso io la leva ragazzi cioè in pratica non metto il capitale cioè il capitale ce l'ho disponibile ma non lo utilizzo nell'exchange per non pompare troppo l'exchange e quindi utilizzo la leva ma ho comunque il capitale disponibile quindi è una leva immaginaria perché in realtà il capitale non è all'interno dei checks per via della questione sicurezza li tengo ovviamente in wallet con le chiavi di cui possiedo le chiavi private e metto all'interno dei checks quindi dei central exchange centralize exchange solo ed esclusivamente il capitale che utilizzo per il trader ma quel trading lo faccio sull'intero capitale e quindi devo usare la leva perché mi manca il pezzo di capitale che non è dentro l'exchange quindi è una leva fittizia quindi anche quando pubblico delle cose le metto lì perché la leva c'è va è fittizia ok quindi mi piace molto utilizzare quindi BitGet e anche ogni tanto Bybit anche se su Bybit più che altro ho dei sistemi automatici ragazzi vi lascio comunque il link in descrizione mi date come sempre una mano con il canale e se volete provare l'exchange refera al link in descrizione che c'è tra l'altro lo scontone a vita sulle fee allora per quanto riguarda invece poi la posizione ciclica diversa rispetto a quella che abbiamo parlato è struttura come vi dicevo da due cicli mensili lunghi che compongono un trimestrale oppure struttura ternaria con il terzo ciclo appena iniziato che avrà vita breve perché poi dovremmo andare a chiudere la questione quale delle due sarà la ipotesi valida a livello operativo vi ho detto comunque come bisognava agire qualora questa ipotesi sia la seconda quindi quella ribassista questa posizione andrà o in leggero profit o in leggero stop quindi niente di anomalo ma è molto protettiva perché ci ha fatto risparmiare eventualmente delle problematiche di dover salire poi sul carro senza in maniera estremamente tardiva andiamo a guardare anche la questione di ETH perché ETH inizia ad essere in una fase temporale molto interessante intanto la struttura dell'incapacità di Ethereum di andare a fare nuovi massimi a luglio rispetto a quelli di aprile è decisamente rilevante rispetto a Bitcoin perché vedete Bitcoin aprile Bitcoin luglio Ethereum Bitcoin Ethereum aprile Ethereum luglio questo è significativo perché qui abbiamo su Ethereum un massimo inferiore quindi l'over high perché ragazzi questo è significativo perché qualora qui iniziasse un trend ribassista più importante questo è l'unico spiraglio rispetto a un'inversione di trend di tutto l'intero movimento iniziato su ETH da giugno 2022 quindi questo in movimento che è un laterale rialzista non è un vero rialzo è un laterale rialzista una specie di cammello doppia gobba di natura rialzista qualora Ethereum scendesse un po' troppo e c'è il rischio enorme di breccare questo livello questo livello che coincide con i 16 e 2 innescherebbe la struttura di inversione di tutto questo cammello e quindi da qui in poi noi saremo su ETH in un trend ribassista quindi il rischio enorme di andare a tentare di fare nuovi minimi o avvicinarsi in questa zona è molto alto quindi qui si gioca la partita anche di ETH ragazzi è una partita che non dovete assolutamente sottovalutare perché bisogna stare con due piedi in una scarpa anche qui però il fatto che siamo andati molto lontani dal fare un uovoro higher high e con un passaggio di tempo anche notevole da aprile a luglio è una cosa importante e bisogna poi andarla a considerare quindi fate molta attenzione a questa questione qui da un punto di vista ciclico se andiamo a ricostruire diciamo dei cicli più importanti si può evincere in maniera molto chiara che qui abbiamo avuto delle strutture di un ciclo semestrale da 200 giorni creato da due trimestrali 109 97 e qui quindi probabilmente è iniziato un nuovo ciclo semestrale che io ho fatto coincidere con un ciclo semestrale corto come il precedente che era questo qui perché potrebbe essere un movimento ternario costruito così che va a chiudere un annuale quindi fatto in questo modo io sono estremamente attento ad Ethereum in questo frangente perché dal minimo di giugno l'annuale potrebbe non essere ancora chiuso se invece l'annuale è iniziato qui c'è ancora tempo però questo spuntone qui è molto complesso ragazzi quindi fate molta attenzione ad ETH e alle posizioni di ETH in questa fase ci sono anche dei livelli importanti prima del livello di 16.200 ed è questo qui cioè questa zona qui a metà 1.800 per quanto riguarda ETH è anche vero che dopo i 1.800 incontra subito un livello di supporto immediato che è tutta questa zona quindi 1.800 e 30 1.795 tutta questa zona è un supporto ma se perde questa zona ragazzi è pericolosissimo perché poi si avvicina ad una struttura molto più ribassista quindi bisogna essere attenti andando a vedere anche l'altro grafico che avevo promesso per oggi poi chiudiamo il video c'è il grafico di rapporto di forza relativa tra Ethereum Bitcoin che è anche indicativo di una questione importante qui è iniziato un nuovo ciclo annuale il ciclo annuale che secondo me non è ancora chiuso su questo minimo di giugno e questo indicherebbe che sostanzialmente ancora possiamo avere una fase del genere per andare a chiudere questa struttura ciclica e mi porta sempre la data di settembre ottobre settembre ottobre quindi potrebbe essere effettivamente una zona importante di snodo per tutte le cripto perché sappiamo che poi da ETH tutte le altre criptovalute ne diciamo si accavallano quindi dalla forma di Ethereum se Ethereum ritorna a essere un po' forte anche le altre cripto poi spingono questa cosa potrebbe in effetti avvenire dopo l'estate bisogna secondo me tenere gli occhi aperti perché se avverrà una fase ribassista un po' più pronunciata per le criptovalute potremmo anche ottenere delle occasioni di acquisto importanti dopo l'estate nella prima fase dell'autunno ed è quello il momento secondo me per cui bisogna prepararsi in questi due mesi è poco tempo quindi monitorate quelle che sono le cripto importanti monitorate l'atteggiamento di ETH su questi grafici che abbiamo visto lo vedremo insieme ovviamente nei vari video e poi prenderemo le decisioni ultima cosa e non meno importante ma stra importante per me vado in vacanza vado in ferie ragazzi quindi nei prossimi giorni continuerò comunque a fare i video su youtube a pubblicare le cose interessanti e ovviamente se dovesse esserci dei movimenti atomici sarò sempre qui con voi però sarò un po' più leggerino perché stacco la mente e vado in giro suono come sempre se avete sono musicista ritorno a fare cose diciamo che proiettano la mia creatività la mia diciamo parte più emotiva e meno reazionale e sono molto contento di questo come sapete io bilancio sempre con una doppia faccia della medaglia va bene allora ciao a tutti buon inizio settimana e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti